Salve a tutti amici youtube e bentornati a un altro grandissimo video Allora questa è la seconda parte della costruzione della grande scultura Che sarebbe questa qui O pixel art come la vogliate chiamare Che è qui dietro Allora sono andato un po' in giro per il mondo Mi ho raccolto un po' di sacchi di inchiostro Quindi adesso Facciamo un po' di lana nera Poi ho raccolto Sono andato che è tipo una specie di isuletta C'è tantissime cose Ho raccolto anche un sacco di coloranti come vedete Sono tantissimi però bastano Dobbiamo prenderci ancora un po' di lana Allora questo si fa così Forse non basta Al solito questa pecora Non so perché è messa al pericolo Non deve riuscire nessuno E allora tornerà Tutto il manto Ok va bene Dobbiamo sostituire blocchi di terra Con blocchi di Con blocchi neri Anche se Non sono poi Sinceramente così sicuro Che sia così Ora vado a Documentarmi Con un'immagine perché Non credo che sia proprio Uguale uguale così Aspetta un secondo eh Ok allora Ci siamo Non è che sia proprio Ecco sì che cosa manca Sì manca Sopra In questo punto qui Aspetta Ti metto L'indicatore In questo punto qui Dovebbero esserci due blocchi Proprio dove sto indicando Però me li sono dimenticati E adesso Andiamo a metterci Allora cinque blocchi di lana nera Non ci bastano proprio Per niente Ce ne serve Quattro Otto Dieci Sedici Ci avevano venti Venti precisi Ci avevano altri Venti blocchi di lana Provo a farli con tutto il materiale che c'ho Ma non ci facciamo tanto Purtroppo Gli inchiosti Lo ce l'abbiamo a sufficienza No No vabbè per ora facciamo con nove Dai Quindi facciamo anche un'altra torre La torre Che si fa così Ok da qui vicino Così vabbè Vediamo questi blocchi Mettiamoci questi C'è ne manca una Quindi la mettiamo qua Quindi la nostra scultura Si sta Si sta avanzando E tra un po' di tempo Sarà pronta Tanto che andiamo ancora Nei blocchi di lana Chiudo perché non mi fido di voi Sto peco Poi andiamo a mangiare le pecore Così fanno altre pecore Così noi abbiamo altra lana Ok allora Possiamo avere altri tre blocchi Non ce ne servono di più Eh sì purtroppo Bisogna assolutamente avere più blocchi di lana Perché non ci passano Non vorrei dirvelo Mi sa che abbiamo finito anche l'inchiostro Ci sono due Mi sa che non mi passano neanche l'inchiostro Vabbè andrò un'altra volta a cercarlo Non c'è nessun problema Non c'è nessun problema Non c'è nessun problema Non c'è nessun problema Non c'è nessun po' queste pecore Ma con la pecora Guardate perché ci sono Cioè Perché è sceso questa cosa in fretta C'è anche un maiale Uh maiale Devo riuscire a farlo andare qui No aspettate Devo riuscire assolutamente a farlo entrare qui dentro Sì 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 Se metterli dentro Entra 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 bravo Guardate guardate qui Guardate cosa c'ho Venite qui venite qui Ok quanto sono stupidi Buono anche un maiale Però di caso sono veramente difficili a trovare ragazzi Non crediate che sia così semplice Guardate o ci danno le zombie o niente E poi questi fanno a trovare Credo che solo ci danno le zombie Te Te no Scusa Te no Qua solo c'è sempre un fara vera nona che resta senza cibo Cioè anche senza Partner Ah perché di qua c'è tanta erba ecco perché Riusci subito Quindi facciamo un altro nero Via Via mucca Contra una nero 5 Non è tanta ma ce la faremo pastare Ok A questo punto Dobbiamo per forza fare un'altra colonna Ci vedo un po' di tempo per togliere questa roba Dovano le altre 5 Stavano anche notte Credete che sia facile eh? Invece ci vuole un po' di tempo purtroppo Quasi bisogna avere pazienza Però se non ricordo male era così Non sbaglio A questo punto qui Sì è così Creeper Sì 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 E' così Qua non ci sono blocchi Ci sono blocchi quelli verdi Che dove vedi si non lo so Se non ce l'ho ucciso anche Va Vabbè adesso verrà andata Quindi andiamo in casa Dormiamo E credo di concludere Anche qui Il video ragazzi Mi spesso non riuscire a finire queste due volte Ma non è facile recuperare tutti i materiali E prometto che la prossima volta Finiremo il video Quindi Grazie a tutti per l'ho visto Mettete un bel mi piace Commentate Se avete qualcosa da chiedere O se volete darmi qualche consiglio Iscrivetevi al mio canale E ciao Nel prossimo video